Il contributo dell'Italia dei Valori è determinante nella competizione elettorale per il Consiglio Comunale e Provinciale, ma anche per le altre realtà della cintura fiorentina. È così che Matteo Renzi, candidato alla presidenza della provincia di Firenze, ha sottolineato l'importanza dell'appoggio del partito guidato da Antonio Di Pietro per la prossima competizione elettorale durante l'incontro informale che si è tenuto presso il Comitato elettorale congiunto di Renzi e del candidato sindaco di Firenze, Leonardo Domenici. Renzi non si è risparmiato un accenno alla situazione politica nazionale, ricordando la celebre frase di Indro Montanelli sul vaccino Berlusconi. Il problema di Berlusconi e Montanelli è che bisogna averlo in modo tale da poter poi sperimentarlo come vaccino. Dopo sei mesi di governo Berlusconi i italiani capiranno che non c'è la sensazione, come dice qualcuno, che si sia sbagliato le dosi. Se da Firenze può partire un messaggio anche per tutto il Comitato nazionale, in questa direzione, credo che sia un passaggio da non dispendere. L'Italia dei Valori, ha poi spiegato Di Pietro, è un partito che si riconosce nel centro-sinistra e che vuole iniziare a lavorare da subito per costruire l'ulivo allargato. Per ciò che riguarda la nostra presenza noi chiediamo...